La radiografia del torace, comunemente chiamata RX torace, è un esame diagnostico fondamentale che permette di visualizzare le strutture interne del torace come polmoni, cuore, ossa e vasi sanguigni. È uno strumento essenziale per diagnosticare e monitorare una vasta gamma di condizioni respiratorie e cardiache. Durante l'esame il paziente viene posizionato di fronte a una lastra radiografica, un fascio di raggi X attraversa il torace e le diverse strutture interne assorbono i raggi in misura diversa a seconda della loro densità. I raggi X che attraversano il corpo impressionano la lastra creando un'immagine in bianco e nero. Le ossa più dense appaiono bianche mentre i polmoni piedi d'aria appaiono neri. L'RX torace è utile per evidenziare aree di infiammazione o consolidamento nei polmoni tipiche di infezioni come la polmonite, rivelare la presenza di masse sospette nei polmoni o in altre strutture del torace, identificare fratture o lesioni costali, mostrare un ingrandimento del cuore o alterazioni della forma e delle dimensioni suggerendo possibili problemi cardiaci, rilevare la presenza di aria nello spazio pleurico, una condizione potenzialmente grave che richiede un intervento medico tempestivo. L'RX torace è un esame rapido, indolore e ampiamente disponibile e un esame di prima linea per la valutazione di problemi respiratori o cardiaci.